E ragazzi, come va? Io sono FeriNiki E io sono Stef e che stagio chiama Minecraft E siamo qui con il secondo episodio della nostra Sky Realms Il primo episodio vi è piaciuto abbastanza e quindi siamo qua prontissimi a continuare Esattamente, dato che la scorsa volta abbiamo fallito con gli spiders E ci siamo accorti che effettivamente un bug mi sta tanto Che c'è dato che ancora non sono mai spawnati praticamente dei mob Esatto Abbiamo pensato un modo particolare e fuori dagli schemi per riuscire a fare quella challenge Praticamente, dato che tra un episodio e l'altro per sistemare tutto Ho sprecato sia la lava che l'acqua Li ho dovuti ricomprare allo spawn Quindi adesso vi faccio vedere che cosa ho scoperto di interessante in questo server Ci sono dei venditori Questi venditori vendono qualsiasi cosa del gioco Ma c'è una cosa particolare Infatti, non solo possiamo comprare i blocchi con il buy price Ma possiamo anche vendere Giustamente Quindi, cosa ho fatto io? Mi sono messo e ho venduto cobblestone per tipo un'ora e mezzo Per fare i soldi per comprare un secchiello d'acqua E un secchiello di lava per tornare a fare il cobblestone generator Che cosa c'entra questo discorso? Molto semplicemente Con i soldi possiamo comprare Sembra un venditore di divani Sembrano quelle televendite che vanno in onda di notte Esatto Con i materassi Mi immaginavo te che ti accarezzavi un materassi in questo momento E stavo ridendo da sola Comunque continua Immaginami accarezzando i ragni che evocherò e che ammazzerò prima di te No, e poi stavo ancora ridendo Sul fatto che come accidenti hai fatto in una sera di farm A perdere non solo la lava ma pure l'acqua Quindi io comunque Perché panicando per cercare di rimettere a posto Tappate esattamente i due punti della fonte Sia della lava che dell'acqua In un colpo solo ho fatto jackpot Non si possono fare ste cose Comunque Si può Tanto ho sistemato tutto Nel mob spawning come potete vedere C'è ad esempio l'uovo per far spawnare appunto i ragni Costa 750 l'uno Quindi sono Tantissimo 1502 E quindi 2250 per evocarne 3 E ammazzarne 3 Quindi il gioco di oggi sarà Senza nessun materiale nell'inventario Chi arriva prima ha degli oggetti che valgono 2250 dollari E si compra 3 spider e li ammazza Vince Quindi diciamo Chi riesce prima È la stessa challenge però fatta con l'economia Invece che con gli spawn Esatto A completare la sfida dei ragni Vince in questo caso Sì purtroppo non riusciamo a farli spawnare Quindi ce li compriamo Mi sembra giusto Esattamente Abbiamo anche chiesto appunto nei commenti Una penitenza O diciamo una ricompensa E ci è piaciuta tantissimo Una penitenza che ha proposto un consolino Che diceva Create Chi perde crea una spada in diamante E la brucia nella lava E qui io voglio dire una cosa Sei molto cattivo Non si dicono queste cose Non si propongono queste cose Perché poi Steph le vuole fare Io l'ho apprezzata tantissimo No non si fa Ho pensato alla faccia di Feriniki Quando butterà la sua bellissima spada Nuova di zecca nella lava Ascolta Già hai perso la lava L'acqua Vuoi perdere anche il diamante Anzi la spada di diamante E tutta la tua dignità Cioè vuoi perdere proprio tutto Quindi stai zitto E non mi farà arrabbiare Guardami negli occhi Ti spacco in due Sì perché poi Siamo separati per un motivo Una cosa che tu non hai detto E che siccome eri talmente fallito Senza lava e senza acqua Che poi è venuto a farmare La cobblestone a casa mia Quindi poi mi dice Che cos'è che ti cambia Mi hai rubato un sacco di cobblestone Mi hai rubato un sacco di materiali Spiegami come ti rubo una cosa che è infinita Cos'è che ti cambia Ecco cosa mi cambia È infinita Devi rubare Non mi interessa se sono infinite Tu nella loro infinità Mi hai rubato della cobblestone Ok Quindi stai zitto E devi ringraziare me Perché altrimenti saresti senza cobblestone Avrei dovuto resettare l'isola Dovevi fare una statua in mio onore Cosa che ancora non hai fatto Quindi È finita No no era giusto per È finita dimmi Allora stai zitto un attimo Mi devo farmare dei picconi Devi fare due picconi di ferro È l'unica cosa che potrei avere Nell'inventario insieme a un'ascia E dopodiché si parte Siamo pronti mia cara Ferinichi Sì assolutamente Ok Allora al mio 3 si parte Ok 3 2 1 Via Ok Sono andato Sono andato Sono andato Ok Cos'hai trovato Un diamante No Dai cos'hai trovato Uno smeraldo Ferro E 2 di carbone 3 di carbone Sappiate che il carbone vale tanto 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 da vendere Quindi non è per niente male Però se mi arriva per favore Carbone Anche della redstone Bene 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 Nel carbone mi sa che 16 Li vendi tipo a 400 Considerando che dobbiamo fare un totale di 2002 Potete immaginare Quanto possono cambiare Voglia 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 Lo smeraldo invece se ricordo bene Vale tipo 160 Quindi è stata già una bella botta Interessante I diamanti valgono ancora di più Tipo 250 all'uno Quindi cerchiamo di trovare qualche diamante Che poi è un po' bagate Non so se è una mia impressione Ahà Ma molti materiali si bruciano Schizzano via Io tipo alcuni Sì Alcuni li ritrovo tipo dall'altra parte Sì però non fare questo tono da chiacchieratina Qua siamo in una sfida No no ma io ci sono Ti odio perché mi hai battuto la prima volta Quindi oggi sono tuo nemico Proprio totalmente Quindi nessun tono amichevole Cioè parla quello che mi batte sempre Parla Sì ma io merito di vincere No tu non lo meriti Ok sì perché sono più simpatico No sei terribile Tu sei una brutta strega Che mi tratta sempre male Ci manca solo che esso vinci pure le sfide Capito? Certo Ci manca solo che mi fai bruciare una spada in diamante Magari su Minecraft o fortuna le vinco tutte Cioè come tua fortuna su GTA Cosa hai trovato per ora di valore? Allora vabbè Lapislazzuli tantissimi e redstone Ma i lapis o redstone non valgono molto Esatto che valgono davvero poco Poi ho trovato uno di gold e un diamante Le uniche cose che mi sembra che possono valere Di graziata Ma di gold mi sa che ne bisogna avere tipo quattro Sì però il diamante Io ho trovato solo uno smeraldo Non mi sembra molto giusto Ok il mio piccone è quasi andato Le ultime cose Quasi è andato anche lui Dai qualcosa di bello per concludere Un bel diamante per concludere Per darmi la speranza di vincere adesso Ma non c'è nulla Ma neanche per idea Ma neanche per idea Ma neanche una minima illusione Dico io Dai Ok gli ultimi credo che mi si rompa tipo Ora? Sì rotto Anche me gli ultimi Allora quanto ho? No ho tre di gold Il quarto me l'ha bruciato Non ci posso credere Guarda che anch'io ne ho trovato due Ma c'è c'è l'ho nell'inventario Quindi non riesco a vedere Ma sono quasi sicura Perché mi putta le cose? Che mi li abbia bruciati Cioè non lo so Va vabbè 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 Alla fine ho tre smeraldi Non so bene neanche io come Vado allo spawn e vendo tutto Vado allo spawn e vendo tutto Mercanti dove siete? Qua 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 Allora partiamo dai blocchi Tasto destro sulla cobblestone Vendi tutta per 1640 Solo dalla cobblestone Ok quindi No vedi me li ha bruciati Quelli di gold Sei un disgraziato Allora vado allo spawn Allora 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 Dove si vendono gli smeraldi? Qua Tasto destro Vendi tutti Per 250 Quindi ho fatto 1800 qualcosa E potrei provare a vendere Cosa è successo? Cosa ti sta succedendo? Mi è scomparso Del Del carbone Ne avevo 25 Cioè tipo 21 Me ne sono ritrovato 10 Io ne ho 24 24 quindi non ho male Non ci credo Allora blocchi 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 Devo tornare a casa Devo fare un nuovo piccone No dai Ma come ti sono scomparsi? Sì Mi è scomparso Ma anche uno smeraldo Per un certo punto è comparso Un terzo smeraldo Volevo un attimino Aggiornarti anche sulle mie vendite 1008 per la cobblestone Ok Se hai altre cose da vendere Forse ce la fai tu Vediamo 1008 Allora cosa sto facendo Devo ignorare Devo ignorare i ferinichi Ta 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 Ne faccio solo uno Io il diamante me lo vendo Il diamante me lo vendo Vale bene Vale bene E poi il carbone Il carbone E quanto ti ha dato il diamante? 275 per un pezzo Quindi Quanto ti manca? Vediamo Vediamo Allora non ho fatto il calcolo Fammi vedere quanto sono No ce l'ho fatta 3565 Contando i Mi pare 1150 che avevo Dovevo fare 3.400 in tutto Ce l'ho fatta Guarda che devi comprare ancora I ragni E evocarli nella tua base A ammazzarli Ah devo fare pure quello Sì cara Non hai per nulla vinto ancora Allora Buon spider Eh ok Due veloce Me le date? Stai a recupero Due Magari sbaglia A comprare I maiali Non lo so No ho comprato tre ragni Allora c'era scritto Spider Se poi mi escono fuori Dei maiali Non so che dirti Veloce veloce Devi farti anche una spada cara Sì a voglia A voglia Lo so benissimo Che mi devo fare Io provo ad andare A vendere così No non è slash home Slash spawn Mi devo fare la spada Dai Steph Te le trasportami Mi sono cresciuti Ah no ce l'ho una spada In pietra però Corri 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 Ma la devo fare per la sfida No 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 Puoi usarla Puoi usarla Puoi usarla Vendi tutto Quanto ho? Slash Money Ma dai ho sbagliato pure a scrivere Oh no sta per 2168 E costano 2250 Non ci credo Non ci credo Non ci credo Non ci credo Hai letto la notifica? No che è successo? Sta per riavviarsi il server Tra 15 minuti ci dobbiamo pure muovere Non ci credo Ho perso Ahia picchiano malissimo però Terzo ragno ucciso Ce l'ho fatto Ho completato la missione Ho completato la missione È corrotto questo server Sì sì C'è qualcosa di sbagliato Che fa vincere sempre a Ferinichi Devo anche farmare Per trovare il secondo diamante E poi bruciarlo Cioè come è possibile? Ne ho solo uno Neanche i diamanti Ne ho uno Non ne ho due Ferre sono povero Io non ho parole Non ti faccio un po' di pena? No per niente Cioè ti dovresti fare pena da solo Risparmiami Te lo dico io Ti prego Non farmi bruciare i miei unici due diamanti Di cui uno neanche ho Inizia a venire nella mia base dai Deve mai vedere Assistere al momento Allora brucio un diamante E nel prossimo episodio brucio l'altro Perché altrimenti devo restare qua A farmare per trovare il secondo Che purtroppo non ho Ok? Va bene? Sì un attimino Arriva 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 Allora nel mentre Anche se sarebbe stato più epico Vederti con la spada Allora Non mi rompere le scatole Sono povero Sto arrivando sto arrivando Sto un attimo vendendo tutto quello Che ho farmato adesso Ok quindi quanti soldi Sono riuscito ad avere in questo modo Money 3200 Ce la fai a prenderti i ragni? Certo Uno Così li prendi pure tu e la fai Tanto la devi fare anche tu Assolutamente Infatti era ovvio che la voessi fare Uno Due E tre Perfetto Ok ottimo A questo punto Quanti soldi ho? Perché vorrei fare una cosa Per far rosicare i ferinichi 974 Cosa vuoi fare? Scusa comprati l'altro diamante Allora 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 Tu non lo vendi No ma allora non si possono comprare No c'era una cosa che volevo comprare Per farti rosicare Ma mi sa tanto che non si può Che cosa? Ecco 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 Allora quindi avevo Novecent No ti vedo Cosa vuoi fare? No Dai Quanto mi manca Scusate Perché oggi non posso avere nulla di quello che provo? Ok l'ultimo Ciao bello Non mi rompere le scatole Aia Ok Fatta la missione? Fatta 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 Mi ha dato 500 Questo non è mio Prendita E basta Stai spendendo soldi per qualche fesseria Lo so già Esattamente Tu sai fare solo fesserie Esatto Però fesserie che ti fanno arrabbiare Quindi Ne vale sempre la pena Hai il piccone con te? Sì uno di pietra Ok allora distruggi E uno slab qua Che così brucia il mio diamantino Ok Ok Addio Tristissimo proprio Come per dire Senza neanche un minimo di celebrazione Proprio super triste Volevo creare Ok Una zona per fare una farm Perché Ok Dato che ho farmato Per prendere il secchiello d'acqua E quello di lava Ho farmato un po' di più E ho preso un secondo secchiello d'acqua Ok io ottimo In questo modo adesso mi creo una farmettina carina Dove mettere il grano Sì stavo pensando di farlo anch'io nella mia Sai perché secondo me È una delle prossime cose che va fatte Soprattutto perché il grano Mettendolo così senza acqua È davvero davvero troppo lento Quindi rischi sempre di avere fame Di non vederlo mai crescere Una tristezza Esattamente Davvero davvero troppo Quindi io adesso mi faccio una piccola farmettina qua Allora facciamo un altro di cobblestone così Tanto qua l'alberello non ci sarà più E mettiamo un po' di terra Lo facciamo abbastanza grande da farm Così posso farmare tanto grano Ah ma io non ho grano Che ridicolo Ce l'hai tutto tu il mio grano Ne vuoi uno? No Per gentilezza Dovevo mettere prima la cobblestone Ho sbagliato Oggi non ci sei Fai solo fallimenti oggi Fai solo fallimenti Vabbè sprechiamo terra Pazienza Qua ci mettiamo tutta l'acqua E poi semino tutto intorno Esatto Ok abbastanza bellina Quindi ci prendiamo l'acqua Adesso metto l'acqua e succede qualche bug strano Tipo che scompare Opla Perfetto Oh che bello La mia nuova farm E adesso non ho nulla da piantarci No non è vero Ho i meloni Ho i meloni Ho i meloni Ho i meloni Allora non passare sulla mia coltivazione No so ferma qui solo a guardare come li pianti Questi sono i miei meloncidi Belli Ok Me ne offrirai uno quando sono pronti? Forse Ok Adesso qua a fianco alla mia bellissima farm Facciamo un'altra zonettina Che è un po' più piccola Ed è soprattutto in cobblestone Perché non ho altra terra da sprecare Come già ho fatto E qui ci sarà un'altra cosa Prova a indovinare che cosa Ai 4 minuti e 40 Perché poi crashiamo Dannazione No quella è un'altra cosa È un'offerta di 4 ore Non leggere quello Ah ok Probabilmente siamo già a 3 minuti Quindi Ah ok bene Quindi c'è Allora lo so già Sicuramente stai mettendo qualche animale Per farmi rosicare Come hai fatto? Perché tanto è quello A me piacciono sempre gli animali Quindi farmi rosicare con gli animali È davvero semplice Quindi ho detto Adesso ha comprato qualcosa Sono indecisa Se hai comprato magari una muca o un maialino Però suppongo un maialino Ho ragione Ok sì Beh lo sapevo Ti rovino anche Anche le cose che mi fai Hai capito? Le cattiverie che mi fai Te le rovino Disgraziata Tacchete 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 Qui creiamo appunto Il gate Poi dimmi che bastano Ti prego Sì dovrebbero Dovrebbero Nei messi tanti Sì 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 dai Giusti 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 Opla Yeah Dai un altro colpo L'ho picchiato Al mio maiale Al mio maiale Se non sei mio Ti meriti solo E ti cancello dalla serie Solo di diventare pancetta Non l'ascoltare O faccio diventare pancetta Non l'ascoltare Ok È soltanto gelosa E signor maialino Io sono sicura che durante la notte Uscirà dal recinto Ti mangerà tutti i meloni E ti farà la pupù In tutta la coltivazione Perché tanto è così Che va a finire No non succederà mai E poi mai E benissimo che succederà E poi signor maialino Ti sta aspettando nella nuova serie Questo è un maiale normalissimo Sei attento quando dormi È un maiale normalissimo Non dormire mai E non è tuo alleato Ok Sì che lo è Tutti i maiali lo sono Quindi adesso Ho una bellissima farm di meloncini Ho un bellissimo maialino Chiuso in un recinto Ne servirà un altro Per inserire a farli raccopiare Ho dei bellissimi mob spawner Che non funzionano Non ho grano da piantare Per colpa di questa bruttissima strega Io ho vinto lealmente Che vuoi E sono in debito di un diamante Perché le cose vanno sempre molto bene Sì esatto esatto Adesso voglio andare a vedere Nella zona di spawn Quanto costa il grano 42 dollari l'uno Ah quindi lo posso comprare E compratelo qualcuno Sì dai Ok allora no aspetta Me ne escono ancora un pochettino Quindi rimuovi 10 Rimuovi 10 Rimuovi 10 Facciamo Aggiungi 1 126 mi escono No sono così povero E iniziamo a mettere i primi semini di grano Così piano piano recupererò anche quello E potrò iniziare a mangiare qualcosa Non il mio maiale Ci tengo a precisarlo Vabbè oh E tu stai alla larga Che ti ho visto avvicinarti Non ci devi provare Scappa Finchè stai in tempo Scappa Quanto ti vorrei buttare di sotto Fuggi Ti odio 4 3 2 1 E veniamo buttati fuori Veniamo buttati fuori Però Almeno abbiamo fatto in tempo Siamo stati giustissimi Abbiamo fatto tutto in tempo Siamo stati bravi Anche questa è stata una challenge Nella challenge Ovvero riuscire a finire il video Entro il tempo di restart Del server Del server E ce l'abbiamo fatta Ci obbligano a smettere di giocare Comunque dai Io direi che ci possiamo fermare così Per questo video Nel prossimo video Facciamo la sfida Con la casetta Quindi ci sarà un sondaggio E voi voterete Quale delle due casette Vi piace di più Quindi verrà mostrata Anche quella di Fereniki Se ci riusciamo Mostreremo anche Il suo gameplay In certi momenti Con un piccolo di quadrino Esatto In questi primi due video Non si è visto Perché un po' di problemini Col pc Quindi stiamo cercando Di risolvere Non vi promettiamo nulla Perché potrebbe non funzionare Però se possibile Cerchiamo di mostrarvi Anche in certi momenti Il suo schermo Così appunto vedete Sì sarebbe bello La sua progressione Della challenge Poi dico Due ne ho vinto Sarebbe stato epico Vedere anche le mie vittorie Cioè questo pc Va sistemato Perché i consolini Devono riconoscere Vedere le mie vittorie È bello quando si batte ster Sì sì è così Nessuno lo vuole vedere Quindi la sua idea Sarà su farsi una casetta Non so bene Che tipo di casetta Potrei fare In un'isola Sospesa Però mi inventerò Qualcosa di originale Perché a costruire Sono scarso Quindi devo vincere Con una bella idea Altrimenti perderò sicuramente Bene che se riusci così Se ci riusci a lasciare Dici un like E se la prima volta Che vi ho detto Il nostro video Potete considerare L'idea di iscrivervi Per non perdervi Gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao ciao Ciao